... ... ... Guardandomi intorno, penso che siano stati questi posti a insegnarci che le cose belle sono quelle che durano. Ci vuole pazienza per fare le cose bene. L'attenzione fa la vera differenza. Se mi concentro riesco a sentire i profumi e i suoni dietro ogni gesto. In tutte le scarpe che facciamo entra la passione di chi lavora qui. La cura che mettiamo si vede in ogni cucitura. Per creare qualcosa che duri nel tempo serve impegno e precisione. È lì che si raggiunge la vera bellezza. È la nostra forma di rispetto verso il territorio e verso le persone.